Ci accingiamo adesso ad un'ultima presentazione per un ambiente molto interessante, per uno strumento molto interessante che si chiama Google Sites. Faccio clic sulla voce di menu corrispondente e quello che si vede è che si apre un ambiente per la realizzazione di un vero e proprio sito web. La realizzazione è estremamente semplice, ci solleva dal conoscere qualsiasi cosa di programmazione, di HTML, di fogli di stile e altro, e ci consente di fare un sito molto ben integrato naturalmente con gli altri strumenti, gli altri contenuti messi a disposizione e prodotti da Google, e di pubblicarlo in un tempo veramente molto modesto se confrontato a quello richiesto dagli altri sistemi. Vediamo intanto di che si tratta. Qua abbiamo una pagina vuota dove possiamo scrivere il titolo della pagina, ovviamente. Supponiamo che vogliamo trattare la visita a Gibellina per la quale abbiamo già creato la mappa. Possiamo vedere come si fa a modificare intanto questo titolo. Intanto vediamo, qui abbiamo inserisci, testo, ci sono diverse possibilità su questa colonna. Andiamo alla colonna temi. E allora abbiamo il tema semplice che è quello attualmente in uso, con possibilità di cambiare colore facendo clic su questi pallini colorati, ovviamente, e di cambiare il carattere. In questo caso abbiamo il carattere indicato con chiaro, questo è il carattere classico, questo è il carattere scuro. Possiamo cambiare tema. Questo è il tema Aristotele, anche qui con variazione di colore, in questo caso il colore varia solamente per questa lineetta, e variazione per il carattere. E così via, qua abbiamo i diversi temi a disposizione, vision, e così via. Possiamo cambiare anche, non solamente da temi, ma possiamo cambiare qualcosa solamente al livello del singolo elemento. Per esempio qua possiamo scegliere tra banner e banner grande. Banner grande e banner. Non sta succedendo niente. Proviamo a cambiare tema, forse succede qualche cosa. Ecco qua, tipo di intestazione, banner grande, ecco. Sia in questo caso incrementata l'altezza verticale, banner normale, oppure solo titolo, in questo caso compare solamente la scritta visita a gibellina. Mettiamo il banner standard, mettiamo un colore mazzurro, va bene. Il carattere lo facciamo questo più leggerino, visita a gibellina, e cominciamo a mettere un elemento dentro la pagina. Quindi andiamo al tag inserisci, e andiamo ad inserire una mappa, che è la mappa, evidentemente andiamo a prendere la mappa dedicata, la mappa che abbiamo già realizzato, visita a gibellina, e qua c'è un errore di ortografia. E allora qua c'è la mappa, possiamo, abbiamo già inserita, la regoliamo di dimensione in maniera estremamente facile ed elementare, e qua c'è la mappa perfettamente funzionante, con tutti i suoi elementi. Per vedere l'effetto della pagina una volta pubblicata, dobbiamo fare clic su questo simbolo dell'occhio, che indica la possibilità di avere anteprima. Facciamo clic, e quello che vediamo è la vista della pagina, così come la vedranno i nostri fruitori, cioè le persone che si andranno a collegare al sito. Per tornare in modalità editing, facciamo clic sulla X, devo spostare in questo momento l'icona, la finestra con l'immagine della webcam, ecco qua, e siamo ritornati in modalità editing. Vogliamo fare, vogliamo aggiungere adesso una nuova pagina, quindi andiamo al tag pagina, e facciamo clic sull'icona pagina. nuova pagina, mettiamo un nome, per esempio, galleria fotografica. Facciamo una pagina dove andremo a mettere le fotografie nella visita a Gibellina. Quindi facciamo clic su inserisci, e andiamo a prendere immagini. Facciamo clic sull'icona immagini, si aprono le immagini direttamente dal mio drive, e quindi facciamo una selezione, col tasto CTRL posso selezionare tutte quelle che voglio inserire, inseriamo pure questa, dopodiché faccio clic su seleziona, e le immagini automaticamente vengono inserite nella pagina. Vediamo anche in questo caso l'effetto, cliccando sul pulsante anteprima. Vediamo che non solo le immagini sono state inserite, ma è stata anche composta una pagina, in maniera tale da adattare tra loro alle immagini di diverso formato. Andiamo nuovamente in modalità editing. Vediamo una cosa, che qua si sono creati due voci di menu, home e galleria fotografica, cioè praticamente ogni volta che noi creiamo una nuova pagina, viene automaticamente creata una nuova voce di menu. Insomma stiamo capendo che questo strumento è estremamente interessante per andare a pubblicare lavori fatti per esempio dalla singola classe, un lavoro di ricerca, una visita didattica, un viaggio, una ricerca su un determinato tema. Possiamo ancora fare una prova, giusto per ricordare meglio l'utilizzo del sistema. Abbiamo già provato a mettere una mappa nella home page, abbiamo messo delle immagini facendo la pagina nuova galleria fotografica, naturalmente possiamo fare una nuova pagina dove andremo a mettere per esempio un documento di testo, la chiamo semplicemente testo, qua già è stata creata la nuova voce, qua possiamo ovviamente fare o inserire del testo da casella di testo, qua scriviamo liberamente nuovo testo, oppure possiamo, in aggiunta a questo, possiamo andare a prendere un altro dei documenti di Google già precedentemente realizzati, per esempio un foglio elettronico, una presentazione, un grafico, oppure il calendario, un video da YouTube, vediamo, proviamo un documento, in questo caso abbiamo semplicemente il test di scrittura e la formazione, nel documento di descrizione di questo percorso formativo, proviamo a mettere questo, inserisci e vediamo che succede, il documento viene riportato, in questo caso si dice, si parla di embedding, cioè di inclusione, del documento dentro la pagina, come vedete non è il testo del documento che è stato riportato, ma è proprio il documento nella sua interezza, con tutta la sua formattazione, una volta che abbiamo terminato il lavoro, se vogliamo renderlo disponibile in rete, dobbiamo fare clic sul bottone pubblica, facciamo clic, questo è il percorso, dobbiamo consentire o meno la visualizzazione del sito in risultati di ricerca, direi in questo caso non la consentiamo perché non è molto interessante per noi, questo è un sito di prova, e qua scriviamo l'indirizzo del sito a questo punto e metto anche in questo caso visita gibellina, metto il trattino perché è meglio negli indirizzi non lasciare spazi vuoti, il pulsante si è attivato, faccio pubblica, faccio clic su pubblica, la pubblicazione è in corso, il sito è stato pubblicato, quindi facendo clic su visualizza, diamo l'opportunità a Firefox di aprire il sito, ecco qua, questo è il sito online, perfettamente funzionante, come l'abbiamo creato in veramente pochi minuti, questo è il suo indirizzo, sites.google.com slash view slash visita gibellina, questo è l'indirizzo web, è il cosiddetto URL, accessibile da chiunque abbia un collegamento in rete.